Il mio nome è Joe, è il titolo degli ultimi, dei dimenticati, degli emarginati, dei senza volto, ma anche di chi, nonostante tutto, mantiene un equilibrio nella vita. Con queste forti tematiche il Partito Comunista dei Lavoratori ha realizzato la visione del film di Che Loasce citato in apertura nella giornata di venerdì 24 marzo 2017 a Bova Marina. Il film tocca per la profondità dei sentimenti che vivono le fasce sociali sopracitate nella dicotomia tra amore e denaro. Alla fine sarà la morte a rendere giustizia delle sofferenze vissute da chi ha perso ogni possibilità di mediazione a causa del dio denaro. Cosa possiamo fare dunque per salvarci, per non morire nello spirito? Dal film stesso si ricavano argomenti oggi fondamentali, come quello dell'autoaiuto o di un rapporto di coppia autentico o ancora della rivalutazione del senso della legalità realizzabile in un contesto paritario e reciproco con le forze dell'ordine, non certo positivo e contraddittorio come oggi avviene. Si auspica che l'iniziativa sia la prima di una serie di attività di socializzazione e sensibilizzazione anche con gli approcci più variegati.